Soprattutto con la pandemia abbiamo realizzato come sia fondamentale per bambini e ragazzi poter fare esperienze di crescita con i propri coetanei all'aperto e in uscita. Per questo sono necessarie quelle attenzioni che contribuiscono a creare esperienze belle e indimenticabili come pianificare attentamente e per tempo viaggio e soggiorno, prevedere un'accurata selezione degli educatori, un'adeguata supervisione sui minori, il giusto rapporto numerico con i partecipanti, fornire alle famiglie ogni informazione su viaggio, soggiorno e spirito dell'esperienza. E inoltre acquisire il consenso scritto dei genitori e i loro recapiti, garantire la riservatezza dei minori, specialmente rispetto al lavarsi e al dormire. Acquisire tutte le informazioni utili sui minori, specialmente per quelli in difficoltà, conservandole con rispetto e riservatezza. Sarà chiaro che la parrocchia adotterà tutte le misure necessarie per la sicurezza delle persone e per la tutela del significato educativo delle proposte.